Sacrificio d'amore Sacrificio d'amore, anticipazioni, la fiction sospesa torna a maggio Sacrificio d'amore sospesa. . È da poco andata in onda la sesta puntata di Sacrificio d'amore, la nuova fiction di Canale 5 che vede come protagonisti gli attori Francesco Arca, Giorgio Lupano e Francesca Valtorta. . La fiction racconta l'amore impossibile di Brando e Silvia, ostacolato dal marito di lei e dai pregiudizi della società dell'epoca. Attorno a loro ruotano altri personaggi e le loro vicende. . Nella puntata di questa sera Silvia ha deciso di far visita a Brando per dirgli addio. . Questa sua scelta, però, non viene presa bene dal marito che cerca di vendicarsi e di punire la moglie. . Nel frattempo anche Maddalena e Tommaso entrano in crisi. . Cosa accadrà nella prossima puntata? Lo scopriremo solamente a maggio, la fiction infatti è stata momentaneamente sospesa. . La storia di Brando e Silvia. . Nonostante l'eccellente cast e la trama ricca di intrighi e storie d'amore con una circostanza storica importante, sacrificio d'amore non ha ottenuto i risultati sperati. . . I telespettatori non sembrano essersi appassionati alle vicende dei personaggi di questa nuova fiction deludendo così le alte aspettative iniziali. . Complice anche il periodo critico in cui la fiction è stata inserita, sacrificio d'amore è stata dunque sospesa. . . L'ardua decisione è stata presa direttamente da media setà a causa degli ascolti troppo bassi. . Fortunatamente la serie si compone di 22 episodi, per cui è stato deciso di interrompere la messa in onda con un primo finale di stagione. . . Il resto delle puntate verrà trasmesso a maggio, sperando che sacrificio d'amore possa ottenere il riscontro sperato. . A dare la notizia della sospensione sono stati direttamente gli attori protagonisti Francesco H., Francesca Valtorta e Giorgio Lupano sui loro social network. . . Dopo l'addio di Brando e Silvia avvenuto in questa sesta puntata dovremo quindi aspettare maggio per scoprire con la settima puntata se il loro allontanamento sarà definitivo o meno. . Sacrificio d'amore torna a maggio. . . Dopo la messa in onda della sesta puntata di questa sera, Sacrificio d'amore va in pausa e torna a maggio. . Al suo posto andrà in onda in prima serata la sop opera spagnola Il Segreto. . . Scopriremo, dunque, solamente in tarda primavera come andrà a finire l'amore impossibile di Brando e Silvia e tutte le vicende dei personaggi che compongono sacrificio d'amore. . . . . .